Le lacrime di commozione della presidentessa biancorossa Francesca Maria Tardella si aspettava, immaginava, sognava un giorno come questo? Lo sognavo, non lo immaginavo, l'ho sperato fino alla fine, il premio al lavoro che hanno svolto con grande dignità e con grande dedizione tutti i ragazzi e tutta la società. La maceratese torna in Serie D dopo sette anni, ma quel campionato di allora fu diverso rispetto a quello di adesso, c'era molto meno calore, c'era molta meno attenzione da parte dei tifosi, macerata ha dimostrato oggi di non essere una città fredda ma di avere un gran cuore. La macerata oggi ha dimostrato venendo a Cagli un affetto e un calore verso i suoi colori, strepitoso, è una cosa che dobbiamo a tutti loro, è una cosa che a ciascun tifoso della maceratese noi dovevamo. Mister, questa vittoria è tutta per lei, c'è un amore da parte di questi tifosi unico nei suoi confronti, sono queste le grandi soddisfazioni che il calcio sa dare? No, che veramente straordinari, ho fatto i complimenti più volte perché hanno dato un sostegno ai ragazzi grandioso per tutto il campionato, oggi la coronazione di questa vittoria è anche merito loro perché lo vedi, non riesco neanche a parlare. Ti aspettavi un giorno così? No, è una cosa incredibile, non non l'aspettavo mai tutti questi tifosi, è una roba incredibile, è una cosa spettacolare, non so come esprimermi, è veramente bello.